Dottoressa Albanese, lei svolgerà un'azione di tutela dei diversamente abili nel rapporto con la pubblica amministrazione. Da dove inizierà, visto che il ruolo di garante è nuovo per il Comune di Sciacca? Innanzitutto inizieremo ad informare chi è il garante e cosa fa. Perché il garante è Maria Albanese, ma in realtà dietro ci sarà una squadra. Una squadra che è legata tra le famiglie e gli enti comunali. Anche dall'avvocato di Giglia, che era uno dei candidati ed è un garante importantissimo in altri territori. E quindi inizieremo a capire quali servizi dobbiamo iniziare a snellire o attivare che mancano. Sicuramente la cosa importante è cominciare a parlare di un progetto di vita. Nel momento in cui un bambino e un ragazzo ricevono una diagnosi, i servizi dovranno stilare un progetto di vita. Quindi un progetto cuscito su se stesso, che lo accompagnerà nel tempo. Quindi parliamo del prima e del dopo di noi e del durante soprattutto. Noi negli anni abbiamo visto le famiglie in prima linea protestare anche a volte per la lentezza dei servizi, per dei servizi che non venivano assicurati o interrotti, non soltanto nei rapporti con il Comune, ma anche con l'Asp. Adesso vedremo in prima linea il garante in ognuna di queste occasioni? Assolutamente sì, perché uno dei compiti del garante è quello di avere accesso a questa burocrazia, tutta la documentazione. Quindi andremo a vedere dove c'è l'inghippo, dove c'è il problema e cercare di capire come risolverlo. E dentro i 90 giorni i servizi dovranno rispondere, perché poi da lì si agisce anche in via legale. Secondo lei la carenza maggiore che si registra attualmente nel territorio di Sciacca e quindi una delle prime cose che vorrà fare qual è? Innanzitutto promuovere l'inclusione. Se dentro di noi l'inclusione diventa parte della nostra vita, è ovvio che poi i servizi, il diritto alla scelta diventa ovvio per tutti. Perché come dico io, noi giornalmente, chi non ha un problema con persone diversamente abili, abbiamo accesso a tutto in maniera scontata. Per loro no. Quando sarà scontato anche per loro, allora avremo il cambiamento. Negli anni si è parlato anche a Sciacca di realizzare una struttura comunale all'interno della quale far eseguire anche l'attività di terapia per i diversamente abili. Alcune associazioni, penso ad esempio all'Agape, si sono attrezzate autonomamente nel passato, nell'ambito di un rapporto con l'Asp. Ma a suo parere ci sono le condizioni. Lei chiederà al Comune di individuare anche un locale che sia il punto di riferimento per tutte le associazioni? Assolutamente sì. Innanzitutto perché non tutte le associazioni hanno una sede. Noi abbiamo l'associazione Crescere Insieme che da anni è l'emosina una sede ed è veramente penosa una cosa del genere. Tra l'altro Crescere Insieme dal 2022, quando ci furono i candidati al sindaco, si iniziò proprio a lottare un impegno non solo per la sede ma proprio per questa figura del garante della disabilità. E grazie alla consigliera Daniela Campione siamo riusciti che ha sposato questa lotta. Insieme al tutto Consiglio Comunale ci siamo riusciti, quindi riusciremo anche a fare questo.